Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qui per farvi un altro haul Vi giuro che questo sarà l'ultimo E poi lo ne vedrete per un bel po' di tempo E si tratta di Shane Allora sapete che Shane è uno dei negozi online Che più mi sta a cuore Quindi sono contentissima di fare questo video Anche perchè è in club alzano in colore Quindi questi vestiti che Mi sono stati mandati Mi sono stati appunto mandati da loro Ma se mi seguite Dalla quarantena più o meno sapete Che io su Shane ci ordino abbastanza spesso Quindi è un sito che Oltre alla collaborazione vi consiglio assolutamente E' un sito molto Low cost quindi se non volete spendere tanto E avere dei vestiti molto 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 carini Ve lo consiglio Per quanto riguarda la spedizione Le cose a me sono sempre arrivate In giro di due settimane So che ci sono persone a cui è andata un po' meglio Quindi magari un po' meno di due settimane Ma più o meno la spedizione Se agire intorno appunto alle due settimane E persone a cui il pacco per arrivare Ci ha messo anche un mesetto Secondo me dipende molto dal periodo E anche da dove abitate Infortunatamente ho sempre ricevuto la roba In due settimane Vi dico anche che ho un buono sconto da darvi Potete usarlo su tutti gli ordini Superiore a 39 euro E avrete il 15% di sconto Se userete appunto il codice che vi lascio qua Bene Io direi di iniziare perché sono veramente un sacco di cose Vi annuncio già che questo video sarà il video delle magliettine Ve lo dico E ci tengo anche a dire che se nel titolo hai inserito Back to school All back to school Perché sono cose quasi tutte A parte magari qualche vestitino che ho preso Per fine estate Sono tutte cose che io vedo molto per il rientro a scuola Bene Partiamo dalla primissima cosa Che è questa magliettina Qui in realtà questo qui è un top Ma lo vedrete meglio nella clip È un top nero semplicissimo Questo qui tra l'altro Ce l'ha anche una mia amica però Fatto a fiorellini E inconsapevolmente l'ho preso in pratica uguale a lei Però nero Vi giuro che mi piace un sacco È semplicissimo È di cotone molto leggero Infatti è super adatto per questa stagione E poi c'ha in pratica i due lacci Che si legano dietro E lo trovo veramente molto grazioso Semplice E basta Sapete che io sono molto bene con semplice Lo sarò qui a ripetere anche in questo video E quindi mi piace un sacco Andando avanti Vi dico che le cose se non le sapete Se non l'avete mai arrivato da Shane Le cose arrivano in questi sacchettini Questa qui È una cosa di cui io mi sono innamorata Infatti penso sia una delle mie cose preferite Ed è in pratica una felpa Acropito Quindi corta Grigia con la cerniera Pensavo che non mi piacesse tanto Perché appunto Io prediligo più le cose senza cerniera Ma questa qui è la cerniera E mi piace veramente tantissimo È di cotone Quindi anche questa qui Non è una cosa diciamo super invernale Ha il cappuccio semplice Ma non so perché mi ha colpito Poi anche il fatto che sia arricciata Alla fine Non so Mi piace molto So già che la metterò un sacco Anche perché è la lunghezza Giusta per avvinarla Con qualcosa a vita alta E questa l'ho già messa Sia con qualcosa sotto Quindi proprio A modo di giacchetta Sia con Sia proprio Come maglia Come top Diciamo Quindi ecco Questa è la prima Andando avanti Ho questo qui Che è un pantalone In realtà è un pantalone È una tuta È fatta così Ha l'elastico in vita Che rimane abbastanza stretto E ha l'elastico anche Ha la caviglia Il materiale È un materiale strano Non è Secondo me è un materiale Che in realtà va bene Quando inizia a far freddino Perché è quel materiale Un po' sintetico Però che non dà fastidio Che però Secondo me tiene Veramente molto molto caldo E l'ho preso Sia nero Che anche in azzurri Quindi giusto per variare un po' L'ho preso anche in questo colore Stra carino E È fatto in pratica Uguale all'altro Cambia appunto solo il colore E cambia anche la taglia Infatti di questo qui Ho preso una S Mentre del Del pantalone nero Ho preso una M Ho fatto uno e uno Perché in realtà Non sapevo come Gestirmi con le taglie Visto che li volevo Abbastanza larghi Quindi ho detto Magari se ne voglio uno Più aderente Lo prendo Prendo una S Se ne voglio uno Un po' più Diciamo Comfy Prendo una M In realtà la M Mi sta grande In vita E ho trovato la soluzione Ovvero lo metterò Rigirato così Vedete Prendo l'elastico Lo rigiro così Perché sì Effettivamente è un po' grande Quindi io vi consiglio Di prendere la vostra taglia Non tagli in più Tagli in meno Perché sono già Belli abbondanti così Anzi Se mai non lo volete Tanto abbondante Anche una taglia in meno Tanto questo è elastice Quindi si Si adattano molto facilmente Poi iniziamo con la Miriede di magliettine Questa qui È una magliettina Lilla Molto semplice È la lunghezza adatta Per appunto Metterli con qualcosa A vita alta È a costine Semplice Il materiale È abbastanza leggero Di questa qui ho preso Una S E l'ho presa Uguale Così Visto che le metto un sacco Anche bianca Eccola qua A me piacciono Uno sacco Queste magliettine Perché le trovo Semplici Ma super abbinabili E poi mi piace il fatto Che siano Con lo scollo a bu Non so perché Ma ultimamente Ci sono un po' di pizza E l'unica cosa Che mi Da Cioè che non mi piace Tra i miei Di queste magliette È la parte della spalla Perché Hanno tutte la spalla Molto Vedete anche queste qui Questa qua Hanno le spalle piccoline Quindi diciamo che La cucitura Non va a finire Perfettamente qua Va un po' prima Ed è una cosa Che mi disturbo mentalmente Ma è una cosa mia Mentale Stando sempre In tema di magliettine Che ho preso Di tutti i colori Ho questa qui Che ho preso In azzurrino In nero E in Quest'altro colore Che è un azzurrino Petrolio E ce l'ho anche bianca Perché l'avevo comprata Un po' di tempo fa È un tipo di maglia Che mi piace un sacco È super 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 semplice Ancora più semplice Delle altre Perché è proprio così È proprio cotone semplice Con lo scollo a V Corta Proprio semplicissima Cioè più semplice di così Non esiste E di questa qui Ho preso una M Mentre delle altre due Che adesso vi faccio vedere Ho preso una S Perché vi spiego Della maglia bianca Che avevo comprato Un po' di tempo fa Avevo preso un XS Ma effettivamente Proprio mi stava Non dico stretta Ma giusta Cioè proprio Giusta giusta Così ho detto Provo a prendersi Sia una S Che dovrebbe essere La mia misura Sia una M Per magari averci Un po' più Larga E diciamo che Vanno bene sia la S Che la M alla fine Questo è l'altro colore Quindi azzurrino Così molto Molto semplice Carino E l'ultimo colore In cui ho preso la maglia È Questo qui Che è Bellissimo Cioè Dalla foto non sembrava così Ma vi giuro che È un colore che mi piace Un sacco dal vivo Ed è appunto Questo azzurrino Buono Non so come si chiama Tipo azzurro petrolio Una roba del genere Però sì Veramente carino Per cambiare un po' Adesso vi faccio vedere Una parte di sotto Questo qui È un pantalone Super leggero Quindi adatto proprio Per il rientro a scuola Se non volete morire di caldo In questa stagione In cui fa ancora comunque Abbastanza caldo È un pantalone così Marroncino Sì Marroncino rosino È strano Ha il taglio vivo Quindi Fatto così Senza Cuciture e robe particolari È fatto a costine Il materiale Non so che materiale sia Cioè È È proprio leggero Il materiale è leggerissimo E Basta Quindi questo Assolutamente Super 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 Approvato Poi c'è anche l'elastico in vita Che per me è una cosa fantastica Visto che Di solito tutti i pantaloni Mi stanno Perfetti Magari nella parte Del sedere E poi mi stanno Larghe in vita Mentre questi qui che hanno L'elastico Sono perfetti Passiamo a una cosa Che con il rientro a scuola Non c'entra una ceppa Ovvero un costume Ho voluto prendere un costume Perché Non ne ho già abbastanza Ovviamente Ma mi è innamorata Del colore Lilla Ormai lo sapete Non lo so nemmeno a dire La parte sopra È fatta così Quindi a triangolo Molto semplice La cosa che mi piace un sacco È il fatto che siano regolabili Sia Sia le spalline Che per me è una salvezza Perché tutte le spalline Mi stanno sempre Troppo 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 Lunghe E anche la parte del Torace Qui vedete Si può Si può stringere Allargare E Adoro E poi la parte sotto È fatta in questo modo Purtroppo Ma la parte sotto Non sta Quindi è un chiaro segno A rimettermi in forma Per l'estate prossima E più che altro Perché di solito Io di alcuni costumi Magari quelli fatti così Prendo un M sotto Ma essendo venduti Insieme Non posso scegliere La parte di sopra Di una misura La parte di sotto Di un'altra Ma la prossima estate Potrò rinno Starla Chi lo so Altra magliettina Questo dovrebbe essere L'ultimo magliettina Credo Spero Sempre violetta Quindi sempre Lillina così Questa è un attimino Un po' diverso Perché è fatta costine Il materiale È diverso Non è cotone E la particolarità È la manica Che rimane Un po' a palloncino E poi il bordo Sia della manica Che del sotto Perché è così Infatto In questo modo Penso si chiami tipo Bordo a lattuga Una roba del genere Non voglio dire una cagata Però Teoricamente Potrebbe essere così E poi c'è anche Questa arricciatura Qua in mezzo E ho preso sempre Un S Ed è perfetto Assolutamente Questa Va benissimo E Molto semplice Carino E impiacioso Ho preso una cosa Che mi sarà difficile Descrivere Perché Non so Che cosa sia Cioè nel senso È tipo una giacca Però da mettere In questo periodo Comunque Tra un mesetto Perché poi Inizierà a fare Qua potenza Per metterla Ed è molto Molto leggera L'avete sicuramente Meglio indossata Così non si capirà molto Ma appunto È questa Giacca Lunga Che rimane aperta Perché non ha bottoni Niente E Ha anche La sua Cinturina Nel caso Volete legarla In vita E appunto È una giacca Da mettere Magari la mattina Quando c'è un po' di fresco Da mettere sopra Ma anche perché Il tessuto Ripeto È molto 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 leggero L'unica cosa di questa Non l'avrei presa Di questo colore Perché trovo che È un colore Che non mi doni Particolarmente Quindi magari L'avrei presa Tipo nera Le prossime cose Che vi farò vedere Sono cose Che mia madre Ha stirato Perché Provate così Senza essere stirate Quindi appena arrivate Tutte stropicciate Non rendevano Quindi Me le ha stirate E ve le faccio vedere Allora Ah vi dico già Che sono cose Non Bad to school Assolutamente Sono proprio estive Queste Ho preso Questo vestitino Che è veramente Bellissimo Secondo me È stra Semplice Però rimane Molto Elegante Ecco Molto Delicato E ha le maniche A palloncino Con L'arricciatura Qua alla fine E poi Ha tutto questo corpetto Dove ci sono Tipo Delle righe Che stringono E fanno veramente Un bel effetto E E poi niente Ha la gonna Così che si apre A ruota Vi dico che Sotto C'è una Specie di Sottoveste Tipo Bianca In modo che Non rimanga Trasparente Di questo Ho preso Una XS Quindi di questo Ho preso Un XS Così bianco E l'ho preso Uguale Dice che uno Non bastava Anche ovviamente Identico Cambia Anche qui La misura Io effettivamente Questo non l'ho provato Ho provato solo Quello bianco Quindi non vi so dire Quale vada meglio Però secondo me Più o meno Siamo sempre lì E boh Questo qui viola Rimanendo in tema Vestiti Ho preso Questo qua Stra elegantino C'è tutte queste Balze Nelle maniche E E appunto Una balza finale Anche qua Non si chiamano Balze 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 Non lo so In realtà Un'altra cosa Che potrebbe andare bene Per la scuola C'è Perché è un'altra Giacchettina Questa qui Vi giuro È stra leggera E ha Il cappuccio Qui Si chiude Poi con La cerniera E ha l'elastico In modo da essere Stretta in vita Prima Quando ho detto Che le maglietti Ne erano finite Scherzavo Perché qui abbiamo Un altro top Sempre Azzurrino Questo qui ragazzi È Stra delicato Cioè proprio È bellissimo Super cute E È fatto così appunto Sempre le maniche A palloncino L'arricciatura Ai lati Ha questo fiocchetto Stupendo E poi qui Nella par Diciamo sotto Ha questo Corpetto Che va a stringere Perché è tutto Elasticizzato Di questo qui Ho preso una S Ed è la misura Perfetta Ultime due cose Questo vestito No Questo vestito Io l'ho visto Per tutta l'estate A tutti In pratica Ha gli elasticini Come bretelline Quindi potete Regolare la lunghezza E poi appunto Scende molto leggero Come misura Ho preso Una S Esatto E va Mi va perfettamente Anche di sotto A volte Questi vestiti Tendono ad andarmi Bene di sopra E ad essere Un po' stretti sotto Questo invece È proprio perfetto E Basta Lo amo E l'ho già messo Ovviamente Perché è bellissimo La prossima È una gonna Queste gonne Quest'anno Hanno veramente Spopolato Sono quelle lì Classiche Fatte così A portafoglio Io ne ho Una Molto molto simile Nera No nera Blu A poire E l'ho sfruttata Veramente Tantissimo L'unica cosa Che mi dispiace Di quella gonna È il fatto Che fosse blu Perché Non riesco Ad abbinarlo Tanto facilmente Soprattutto Con le scarpe Così Ne ho voluta Prendere una nera Ho preso Una S E mi va Perfettamente Anche nella parte Del sedere E rimane così Mi piace un sacco Perché è una lunghezza Che non è Né troppo corta Né troppo lunga Io ho delle gonne Che sono troppo lunghe Fanno effetto Suora Ma me l'avevo già detto E poi una cosa Molto comoda È il fatto Che ci sia anche La cerniera dietro Quindi anche Facile E veloce Da indossare Scusate Se sono stata Un po' veloce Con i vestiti Ma erano veramente Tantissime cose A farvi vedere Quindi avevo paura Di non farcela Vi ricordo Il mio codice sconto Che potete usare Su Shane Vi ricordo inoltre Di iscrivervi al canale E mettere mi piace Se il video vi è piaciuto Io vi mando un bacio E ci vediamo Nel prossimo video Ciao